è solo lì nel deserto dove l'uomo si perde nell'infinita maestà del silenzio che si può percepire la forza della natura l'infinito mutare delle dune scolpite dal vento l'incredibile forza della vita che esplode creando oasi capaci di nascere dalla arida e rovente sabbia dove nulla può nascere se non un miracolo è lì che nasce la nostra fragranza dalla resina diffusa nella regione di ecias una fragranza aromatica avvolgente ispirata dall'incenso prodotto da queste incredibili resine dalla nota amara dei legni di betula di cedro di sandano dal profumo antico e avvolgente delle spezie d'oriente tesori di una civiltà millenaria che ancora vive una miscela unica capace di indurre il corpo alla meditazione e l'anima rilassamento lasciatevi trasportare dall'incanto del deserto dall'armonia del design italiano e da una fragranza magica come e jazz incense la fragranza di locker berminano ispirata al medio oriente